Ti stai chiedendo se stai scrivendo troppo a una ragazza? La risposta a questa domanda è quasi certamente sì. Come lo so? Beh, te lo spiego in questo video. Beh, perché stai guardando questo video. E di conseguenza, se il titolo ti ha incuriosito, è molto facile che tu sia un principiante. E i principianti hanno tutti un grosso problema in comune. Investono troppo, come si dice in termini tecnici. Cioè, scrivono messaggi troppo lunghi, troppo ravvicinati, e ci mettono troppi messaggi per portare fuori la ragazza, qualora ci riescano. Ma se tu hai una risposta certa, semplicemente apri quelle che sono le tue chat di messaggi. E paragona, come prima cosa, quelle che sono le tue nuvolette di testo alle sue nuvolette di testo. Le tue sono costantemente più grosse? Bene, abbiamo un problema. Guarda quanti messaggi tu le mandi e quanti messaggi le manda te. C'è una grossa disparità? Bene, abbiamo un altro problema. Guarda le tempistiche di risposta. Tu rispondi subito e lei ci mette un sacco? Abbiamo un altro problema.